Perché la cosa principale di questo gioco è che nel momento in cui gli avversari recuperano palla dobbiamo reagire immediatamente e andare il più vicino possibile, costringere l'avversario a fare una giocata veloce perché sotto pressione è più facile o meno facile giocare? E' meno facile. Quindi più libertà gli diamo, più lontani siamo e più il possessore di palla ha tempo e spazio di ragionare e di scegliere la giocata che vuole. Adesso tocca ai bianchi, mi raccomando alziamo tre tocchi, per la squadra in possesso tre tocchi per gli altri invece appena recuperata possono andare a far gol, tocchi liberi. Dai vediamo, quattro minuti vediamo se riusciamo a fare tanti gol. Dai 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 dai! Questa, questa! Quattro tocchi, palla bianca qua in mezzo, palla bianca, palla bianca, palla bianca, gioca! 1-0 dai! Abbiamo tre tocchi, dobbiamo dare una soluzione al nostro compagno! Marco! Dai dai dai, muovila, 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 palla a girare! Palla bianca, pronti? Dai, veloce, reagire! Secondo gol, ancora, palla arancio, dai! Dai dai dai, recuperate, recuperate, reagire! Dietro la sagoma, un metro, anche un po' di più, anche qui dietro, anche di più, metà della metà, ok? Questo è il difensore, cosa succede? Eccomi! Eccomi! Io mi giro, ricevo palla... Dai, continuo, 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 dai bianchi! Come on bianchi! Let's go! Dai 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 dai, su aiutiamoci, aiutiamoci! Bravo! Ok! Sei! Pronto? Andiamo! Sei! Cos'è che non ha funzionato adesso ad attacco palla? Bravo! Bravo big boy! Ok! Ok!